Volete crediti per sniperare eh? Allora passate da igvolt.it e applicate lo sconto il cine minuscolo per avere il 10% di sconto, link in descrizione This is the future Bene ragazzi, eccoci qui tornati con un super video Oggi parleremo dei nuovi giocatori e se, what if E vedremo un po' che cosa sniperare, come sniperare questo tipo di carte In modo da fare del profitto Alcuni giocatori che possiamo prendere durante i lightning rounds anche di oggi O se ci dovessero essere pure domani Ovviamente questi consigli valgono Allora, incominciamo subito andando su FIFA E leggiamo un attimo I giocatori e se sono dei giocatori speciali che riceveranno un bonus più 2 di overall Se la loro squadra soddisferà certi criteri Ovvero, gli attaccanti centrocampisti riceveranno appunto questo upgrade In caso la squadra segnerà almeno 6 gol nelle prossime 5 partite di campionato E invece per i difensori e i portieri se la loro squadra non subisce un gol nelle prossime 5 partite di campionato Valgono subito le partite se vengono giocate alle 8 di sera, alle 9 di sera e i giocatori escono alle 7 Quindi in base all'uscita della carta iniziano a valere le partite dopo le 7 in questo caso Allora, partiamo con il fatto che basandoci su questi dati Ogni volta che si dovrà giocare una partita di una di queste carte La carta salirà di per certo Almeno di 20, 30, 40 K sale Poi, che cosa succede? Che se la squadra fa un gol Già inizia a salire tantissimo Se fa due gol già in una partita ragazzi Questa carta qua Prende il volo e ciaone proprio Quindi In base a questo Possiamo dedurre una cosa Che la domenica noi possiamo andare a comprare questo tipo di carte Adesso andiamo a vedere un po' quali sono uscite E andare appunto a investire Poi cosa facciamo? Possiamo decidere se vendere queste carte a ridosso della partita Perché sicuro salgono dopo domenica che la gente svende per la VL Ovviamente sempre che la carta non giochi una partita domenica E arriviamo a un altro punto L'altro punto è Mi conviene prenderla magari sabato notte o domenica mattina Di solito i giocatori quando le persone svendono dopo la VL È più o meno la domenica alle 13 Come ormai sappiamo tutti La domenica alle 13 quindi è ottimo comprare queste carte la domenica mattina O addirittura il sabato alle 4 di notte Quindi una volta che abbiamo comprato questa carta Aspettiamo domenica sera che magari c'è una partita E la andiamo a vendere Io adesso più ci penso Più per fare del profitto sicuro Andrei a venderla proprio a ridosso Poi ovvio se uno vuole scommettere Gli piace il brivido della scommessa Allora va appunto ad aspettare magari un gol che fa Come una schedina insomma Allora adesso andiamo a vedere queste carte Una per uno E vediamo un po' Io qui adesso ho la lista giocatori Allora primo giocatore Quello che costa meno è Marcello Marcello difensore Ovviamente qui ESE FUT ESE E andiamo a vedere che più o meno sta sui 100k E questo è uno di quelli che dovrebbe andare abbastanza bene Perché sapete benissimo che i giocatori con poche tasse su questo FIFA sono top Già adesso è un filino salito giusto quei 3-4k Il Lione ad esempio gioca domenica 28 contro il Marsiglia Quindi se noi andassimo a comprare 10 di queste carte Oggi o domani durante i Lighting Rounds E a ridosso della partita quindi verso le 21 Andiamo a venderla Sicuro ci facciamo del profitto Questo è poco ma sicuro Adesso vuoi che ci siano persone che hanno già iniziato a comprare queste carte Però io direi che fino ai Lighting Rounds Fino a quando ci sarà la disponibilità sia di sniperarle Sia che escano pagine intere Perché sapete che la EA non si sa Magari certe volte li prende la cosa e mette le carte Quindi questa carta qua secondo me è da tenere d'occhio Perché poche tasse e potrebbe generare un gran profitto Poi andiamo a vedere Jovic che ad esempio mi sembra che oggi abbia giocato Andiamo a controllare un attimo Non è salito e anzi è sceso Perché mi sembra che stava a 200 e passa Ed è sceso a 200.000 crediti Quindi vedete che se perde a questo punto Continua a scendere fino a quando La gente non si accorge che magari c'è la prossima partita del Francoforte Tra un 2-3 giorni e lo va piano piano a ricomprare e risale Bisogna capire anche poi gli andamenti di queste carte Il giorno della settimana in cui è più bassa E invece magari il giorno della settimana anche in cui la gente incomincia a ricomprarle Per le partite dopo Quindi bisogna studiarle un po' Adesso qui ce n'è uno a 206.000 Ok quindi sicuramente con i Lighty Rounds se ci saranno Queste carte qua può anche abbassarsi ancora un po' Però questo è stato un primo esempio appunto Dell'andamento che avranno questo tipo di oggetti Poi andiamo a vedere un attimo altre carte che costano poco Per Eira dell'Udinese Ok quindi a 140 ce n'è uno Ok che ha già 8 proprietari La gente l'ha voluto provare 90 di velocità 80 di fisico 84 di tiro 92 di dribbling Non mi sembra malissimo Si potrebbe anche tentare Poi c'è anche Pierre Limelux Che costa intorno ai 130k Adesso qua mi sa che è un po' salito di prezzo Che è un centrocampista Con delle stazze abbastanza decenti Quindi 78 di velocità 84 tiro 86 passaggio 87 dribbling 84 fisico Vediamo la resistenza 96 di resistenza Quindi anche questo qua Un po' pecca in equilibrio Quanto è alto? 1,86 m Ok quindi Questo giocatore qui è da tenere d'occhio Perché ad esempio La sua squadra Oggi ha giocato O no? Sì oggi ha giocato Ha vinto 2 a 1 Perché comunque ricordatevi Che ci vogliono un paio di partite Un 5 partite Per determinare Se questa carta viene upgradeata o no Però in linea massima Prevedo che A ridosso della prossima partita del Nizza Sicuramente si rialzerà Perché La gente dice Ok Alla seconda partita Se dovessero vincere Sicuro questa carta Diventa oggetto di discussioni E iniziano tutti a comprarla E roba del genere Quindi noi possiamo Andarla a prendere Durante la svendita O durante i lightning rounds A 110 115.000 E poi Andarla a rivendere Prima della partita del Nizza A 150 160.000 Quindi comunque Sono 30 40k carta Non vi starò qui a dire Carte come Papu Gomez Come N'Golo Kanté Come Sancho Porcaccio Come Udegaard Giambabu Va un po' meglio Perché sta 460 470.000 Crediti Ci siamo dimenticati Di Yuri Anche lui Che è un Terzino sinistro 137k Più o meno Ma vale Il discorso Degli altri Poi c'è Chris Molling A 700k Quindi questo È quello che farei io Proverò Sicuramente A fare Un po' di trading Con queste carte Adesso ci rimettiamo In carreggiata Ragazzi Cercherò Di stare più nel gioco Di giocare un po' E di ricominciare E andiamo invece A vedere un attimo Adesso Quello che potete Sniperare Oltre a queste carte Magari ne comprate Una di ognuno Per vedere un po' Come va La compravendita Di questo tipo Di oggetti nuovi Però se volete Invece fare Del profitto Sicuro Andiamo a vedere Un attimo Delle carte Che possiamo Prendere Durante i Lighting Rounds Se ci saranno Mai Prossimi Lighting Rounds Andiamo a vedere La attuale Squadra della settimana E mi piacciono molto I giocatori fodder Come sapete Che quest'anno Costano poco E vengono spacchettati In massa Quindi c'è De Paul Che mi piace molto Tina Lair Younes E poi Forse Romero Però Romero Vabbè Sinceramente Preferisco Questi qui Allora Io non so C'è l'81 di De Paul Che sta a 24 26.000 Crediti Invece la sua versione 84 sta a 23.000 In questo momento Possiamo andare a prenderla Nei prossimi spacchettamenti A più o meno Un 19 20.000 Crediti Massimo A meno lo prendete Meglio è ovviamente Infatti più o meno Sta a 21.000 Crediti Adesso possiamo fare Questo metodo qui Come al solito Oppure possiamo vedere Di utilizzare Lo sniping Normale E andare a prendere Questo tipo di carte Quindi Questo qui Poi c'è Romero Che sta già 28k Dell'Atalanta Perché comunque È una cartina Che probabilmente La gente cercherà Di usare Costa poco E adesso Vediamo un attimo Le stats Ma lo sto guardando Qui Ed è Infatti la versione 82 Sta a 20k Infatti questo qui È molto più difficile Cercare di sniperarlo Questo sta a 26k Se dovesse uscire Una carta 84k La vedete subito E la prendete Dai 20.000 Ai 25.000 Quindi Ultimi acquisti Che vi consiglio Di fare Oltre a questi Fodder if Sono I fodder normali Quelli che bisogna mettere Nell'SBC Decidiamo dei top campionati 5 o 6 Difensori 83 Poi altri 84 Perché quelli serviranno Sempre nell'SBC E sicuramente Nei prossimi giorni Usciranno Quindi A me piacciono sempre Gli italiani Acerbi Romagnoli Ci sono anche Mati Puntiti E Diego Carlos Stessa cosa Andiamo con Gli 84 Felipe De Vrij Gimenez Quindi tutti i giocatori Intorno ai 10k Sicuramente Con gli spacchettamenti Dei what if Questi giocatori Potete benissimo Sniperarli E poi aspettare Mettere in una lista Trasferimenti E aspettare Una qualche SBC Che Li alzi di prezzo Quindi ragazzi Io spero che questo video Vi sia stato d'aiuto Per questi nuovi oggetti What if Fatemi sapere sotto Nei commenti Se fate qualche Compravendita Porterò appunto Lo 0 a 1 milione Di crediti Perché è da un pochettino Che non Facciamo trading Noi ci vediamo A un prossimo video Un saluto dal Cina E bella lì